Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft della serie I Viaggiatori Qui con me c'è... Ah, viss E lo dice sempre in ritardo ragazzi, vai! Io lo dico... Allora, non è che lo dico in ritardo, è che... Sai, voglio dare un po' di suspense per non dire che ci stanno... Oh mio Dio, perché mi si bug in persona... C'è sta di merda? Mi si è bug... Comunque ragazzi, finalmente dopo sette episodi... Non lo so... Abbiamo finito... Casa Finalmente Finalmente l'abbiamo finita Cioè abbiamo finito un altro obiettivo carino, belluccio Non mi ricordo nemmeno... Ah, dici, dici Aspetta, scusami, no... Volevo dire... Non mi ricordo nemmeno quando... Oh, scusatemi, ho sbagliato tosto Ripeto Non mi ricordo nemmeno se in questa... Nell'ultimo episodio ho messo gli obiettivi e ho fatto vedere quali abbiamo completati Vabbè, qui li metteremo comunque in questo episodio Cioè li metto all'inizio Come da solito Ma comunque ragazzi... Fregatevene degli... Degli obiettivi Degli... Degli... Aspetta, però... Io voglio fare la... Oggetti belli Degli obiettivi... Degli obiettivi... Degli obiettivi... Aspetta, spiegami questa cesta... Questa cesta... Oggetti belli Allora, qua... Eh, perché... Non sono oggetti belli Vada... Blu... Rosso... Grigio... Blu... Zulio... Ti capisco... Ti capisco che hai problemi... Però non pensavo fino a sto punto... No, 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 no... Allora, comunque ragazzi... Ah, comunque... Valerio... Se prendi i letti... No, aspetta, si dice... Se prendessi i letti... Sono ironico, idiota... Vabbè... Comunque, piglieri i letti... Vi rifaccio... A sinistra il tuo... La tua cesta... A destra è la mia cesta... Va bene, non mi interessa... Vabbè, comunque... Mi sto qua al cibo... Allora, aspetta... Aspetta... Prima di dire le tue cazzate... Come al solito... Diciamo che comunque... Che obiettivi vogliamo completare... In questo episodio... Episodio... Ma smetti di picchiarmi... Mi fai... Allora, io mo' inizio a fare... Il recinto... Per gli animali... Sì, perché dobbiamo fare... La farm per animali... C'è uno zombie qui... Ciao, bello... Dammi un bacio... Succulenza... Vuoi... Vuoi il culo in faccia? Vieni, vieni... Non muore mai? Vabbè, gli obiettivi che vogliamo fare... In questo episodio... Cioè, cercheremo di farli... In questo episodio... È completare... Cioè, sì... Completare... Il pozzo... Che abbiamo messo... Negli nostri cari obiettivi... E fare la farm... Cioè, vabbè... Come cazzo si dice? Gli allevamenti di animali... Però io ho scritto farm... Però lasciate stare... Non fa niente... Allora, il pulso... Avevo pensato tipo di metterlo... Qui... Sì, va bene qui... Io inizio a lavorare, ragazzi... Vai, io nel frattempo... Prendo un attimo... Le verdure... Diciamo nel nostro orto... E... E... Credo che... E inizio a portarle in casa... Poi dopo... Prendo della legna... E inizio a fare il recinto per gli animali... Facciamo due recinti... Uno per i porci... E un altro per... Allora uno per te... Oh, simpatico... Comunque... Uno per i porci... E un altro per le mucche... Poi ci sta... Dove voglio fare... Io lo spanno di... Polli... Di polli... Quello là... La tourla... Sei tu un pollo... E un po' come si fa... Che non lo so fare... Mi metto un po' e cerco... Sai la cosa divertente... Come cazzo salirò dopo... Vabbè... Ci pensiamo dopo... Vabbè... Comunque... In tutto questo... Dobbiamo finire... Allora... Io prendo della legna... Com'è bello interromperti... Mi diverto... Sono stato... Ma io sono simpi... Io... Lo so che io sia... Il tuo privido è più grande... No mai... No, lascia... Poi c'è il piccone... Aspetta... Vado a vedere quanto è profondo... Credo che... Basti così, no? Allora... Facciamo così... Adesso... Facciamo un altro blocco... Stavo scherzando... Non vengo più... Allora... Come cazzo salgo adesso? Mi spieghi come salgo? Eh... Che ne so... Fatti cazzo tu... Vuoi dire una magia? No... Mettere game mode... Strono... Non hai permesso di usare questo comando... Ah... Vabbè... Sì... Perché... Ah... Perché... Cazzo... Sei chiuso il server... All'improvviso... All'improvviso... Secondo me ho fanno a posto... Ah... Scusate ragazzi... Ma si era chiuso il server... Scusate... Stanno anche sparando le botte... Per la... Mmm... Gesù... E la Madonna... Che non muoiono... Scusate... Non mi ricordo... Non mi ricordo... Come si fa... Vedi che hanno cambiato... Come si crea... Devi fare come fai... Tipo il... Come cazzo si chiama... Il cancell... In cancelletto... E... Devi fare il... Il contrario... Cioè... Metti quattro legni e due mazze... Se non mi sbaglio... Se non mi ricordo male... Non mi ricordo adesso... No... Hai sbagliato... Ah... Spero in questa modalità ancora non c'è... Giustamente... Questo è 1.7.5... Ah... Giusto... Me l'ho scordato... Me l'ho scordato... Comunque ragazzi... Mi dispiace per i contrattempi che sono successi... E le botte che si sono sentite... Alcune credo... Vabbè... Tanto... Monterò il video come sta così... E sentirete... Credo che sentirete un po'... Le mie bestemmie... Forse... Non lo so... Dipende... Vedremo dai casi... Stanno facendo sta cazzo... Di parata... Non lo so per cosa... Ma spero per una cosa utile... Sicuramente come funziona a Napoli... Sarà uscito qualcuno dalla galera... No... Allora ragazzi... No io faccio... Ah io... Cazzo sto facendo... Devo uscire... Cazzo sto venuto a fare qua... Allora... Più che altro... Ora ho fatto quasi il pulso... Ora... Cercheremo di aggiustare... Cioè mettiamo... Cristo... Già iniziamo bene... Allora... Per prima cosa... Iniziamo... A chiudere qui... E tagliamo questi due pezzi... Sono inutili... Sono inutili al cazzo... Ok perfetto... Ah... Già sono finiti... Cosa? Allora... Come vedete... Questo sarà... Il pozzo... Cioè come... Sto cercando di costruire... Il più in fretta possibile... Perché comunque siamo già a sette minuti... E non vorrei perdere molto tempo... Anche perché... Questa serie... Comunque siamo arrivati... A un buon punto credo... Ci sono rimasti... Cioè ci sono molti obiettivi ancora... Però siamo... Al punto... Che riusciremo a completarli facilmente... La cosa più grande... Era quello di completare casa... Che siamo riusciti... Ovviamente... A farla... Il pozzo è quasi finito... Comunque... Mi serve solo l'acqua... Abbiamo completato già un altro obiettivo... E aiuterò Alvis... Con il recinto per gli animali... Visto che comunque... È anche un po' difficile... Costruirlo da solo... Allora... Ecco ragazzi... Questo sarà il nostro... Piccolo pozzo... Che qui comunque... Si sale... E noi prenderemo... L'acqua da qui... Ma che senso ha... Avete il pozzo? Non lo so... L'ho messo negli obiettivi... Non si è felice... Di quello che ha fatto... Eh... Ma come... No Maria... Io esco... No io non posso... Maria... No no... Nemmeno i blocchi... Ma devo... Sto cadendo sempre... Cristo... I nervi... Oggi... Oggi mi sono incazzato... Sono nervoso... Allora... Ho preso l'acqua... Ah... Che poi... Se mi vedete... Una settimana intera... Con la stessa... Giacca... È che... Io registro tutto... In un solo giorno... Cioè... L'unico giorno che io... Posso registrare... Non è vero ragazzi... Non ci l'ho... Ma che cazzo stai facendo? Sto scendo... Ma chi ti ha detto a te di buttarti? Vedi che sei coglione... Allora... Cercheremo di completare questo pozzo... Che... È carino credo... È abbastanza carino... Spero... Che piace... Ma sei idiota? Ma smetti di rompere... Ora prendi... Il pezzo di pietra... È giusto... Allora... Abbiamo quasi completato... Il primo obiettivo ragazzi... Cioè il primo obiettivo... Nel senso... Il primo obiettivo di oggi... Che siamo... A un buon punto strategico... Che cazzo sto dicendo? Io non lo so... Però preparatevi... Fammi vedere bene dove ho messo l'acqua... Non mi ricordo... Non si capisce... Ah ho messo già tutto bene... Non mi sbaglio... Ah ok si perfetto... Ho sistemato già... Bastava... Ok... Questo è il campo per... Perfetto... Abbiamo completato... Questo obiettivo... Che bello... Yeee... L'obiettivo più facile era insomma... Allora... Mettiamo le torce un po' Di qua... E di qua... Poi sistemiamo anche di qui... Ci mancano... Due torce... Aspetta ora le faccio... Un attimo... Ok perfetto... Che bello... Allora ragazzi... Ma... Mi imbroglio sempre... Mi sto... Mi imbroglio sempre... Perché sto giocando... Terron... Terron... Tu sai... Terron... Tu sai... Sai a volte... A volte ci penso... A volte... A volte... Scusa... Scusa... A volte... Quando le persone del nord chiamano... Le persone del sud... Quando dite... Terrone... Terrone... In testa loro... È un'offesa... Ma è solo in testa loro... Perché non sanno nemmeno il significato bene... La ritardaggine... Ah... Povera gente... Io leggerò ancora questo cartello... Oggetti belli... Ma è bellissimo quel cartello... Abbastanza... Ma dove cazzo stai facendolo? Senti... Andiamo a dormire prima... Che buio... Ho paura del buio... No... Dove ho la luce... Dove ho la luce... Dai che tra... Un'ora e mezza... Vengono i miei amici a casa... E... Dobbiamo sbellicarci... Con birra... E videogiochi... Sì certo... Non sto scherzando... Io mi sono messo nel letto... Quando mi venite? Ah... Dai vieni... Sta venendo... Puzzolo... Vieni amore... Vieni amore... Metti la mano sul... Sul petto... Senti qualcosa di bello... Ma è più queste cose... Sappilo... Vuoi addormentare? ADDORMENTATEMI! Ok... Allora ragazzi... Adesso è giorno... Come vedete... Adesso sto scendendo... Spero che quello... Adesso sto uscendo... Si sentirà bene... Adesso sto uscendo... Adesso sto andando... Oh... Uppipistrello! Sì ma lasmetti di dire le stesse cose... Uppipistrello! Comunque dai ragazzi... Come avete visto abbiamo completato un altro obiettivo... Che è stato abbastanza facile... Vabbè si sapeva che era facile... Comunque abbiamo così l'acqua vicina... E possiamo raccoglierla facilmente... Senza problemi... Ho sempre desiderato fare un pozzo... Non l'ho mai fatto... Quindi sono... Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto... E come avete visto abbiamo fatto il primo... A prima parte per mettere... Creeper! La prima specie di animali... Tipo che non so... Le pecore... Poi pian piano completiamo le altre... Cercheremo di mettere tutti gli animali... C'è un creeper! C'è un creeper! C'è un creeper! Bene ragazzi dai... Ci vediamo nel prossimo episodio... State attenti ragazzi... Ai creeper... E ci vediamo! Quanti cazzo ne sono? Mamma! 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 Sto creeper di me! Muori! Testa di cazzo! Ciao a tutti ragazzi! Qui da IamoMoto! E da Alvis!